eccoci in via san francesco d'assisi per me questa è la strada più dissestata della della città che non è che sono solo da pochi mesi sono addirittura anni che è piazzata così percorriamone un pezzo no questo per per vedere che non è solo un tratto anche le auto vanno molto piano questa strada ci si lasciano anche le sospensioni chissà se contatto brumotti di canale 5 per sapere che livello di pista di ciclo cross è questa con quale difficoltà si può percorrere in bicicletta questa è via san francesco d'assisi ed è conciata tutta così che non si può dire solo un piccolo tratto ma è tutto il pezzo dall'inizio alla fine qui siamo davanti al teatro san francesco guardate la difficoltà di quella signora andare in bicicletta guardate la scuola guardate la scuola guardate la scuola spero che il comune intervenga piuttosto velocemente su questa strada Chiediamo un po' a questo signore in bicicletta come mai che non percorre sulla strada come mai che non percorre sulla strada